Be unique. Nel mondo attuale gli esperti di marketing dicono che non serve solo distinguersi dalla massa, ma è molto più importante essere unici, fare qualcosa che nessuno fa o ha mai fatto, diventare riconoscibili per una singola opera prodotto. E la strategia non è affatto sbagliata, perché oggi, soprattutto dal punto di vista dei contenuti, ma anche dei prodotti di grande diffusione, siamo bombardati. Mille modelli di telefoni, mille youtuber, mille influencer e mille racchette da padel. Non a caso questo canale ne ha già un bel po' al suo attivo e non è che tratti padel da 15 anni, anzi. Questo significa che oggi parliamo di una pala unica, o perlomeno che cerca di esserlo. Prima di andare a parlarne vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo aveste fatto, condividerlo con amici e compagni di padel e fare progetti roseliti, che è il miglior modo per sopportarmi in assoluto. Ora andiamo a parlare della Dropshot X-Drive, una delle pale della linea Be Unique della casa che inserisce diverse novità. Come vedete è già molto accattivante dal punto di vista grafico e non è una novità, c'è da dirlo per Dropshot, che da questo punto di vista ha sempre fatto prodotti graficamente molto stuzzicanti. Ma c'è anche dell'altro, come per le donne che, oltre le gambe hanno di più, anche questa pala ha più della parte meramente grafica, quindi andiamo ovviamente a scoprirlo insieme. Vediamo, perciò, se questa Dropshot X-Drive è la racchetta che stavate sognando. La Dropshot X-Drive è una pala di forma a goccia, con un peso che va dai 350 ai 370 grammi, con la mia che pesa 354, ovviamente, come sempre, senza l'accetto, e ha un bilanciamento di 26,4 cm. La gomma interna è una EVA PRO che, con questa conformazione di racchetta tra peso e bilanciamento, regala una qualità davvero ottima per giocare con confidenza in ogni situazione. La cosa che salta all'occhio dal punto di vista grafico è il simbolo di Dropshot iridescente che, in base alla luce che riceve, si riflette in modo diverso, fino anche quasi a scomparire se la luce non arriva in modo diretto. Davvero una soluzione molto bella e unica, che avevamo visto con altre caratteristiche anche nella linea Canyon PRO di Pablo Lima. Il Total Black, come sapete, è una modalità che mi piace molto e apprezzo particolarmente, ma, oltre a questo, c'è anche tanta tecnologia nei materiali e nella composizione della pala. I piatti sono in Rectangle Carbon 12K dotati di una superficie 3D curved 360 per aiutare, ovviamente, con gli effetti. Nella parte superiore della racchetta c'è il classico protettore in nylon che salvaguarda l'integrità della racchetta ed è molto solido, mentre lo Smart Hold System organizza la distribuzione dei buchi nella pala per un massimo risultato in ogni parte del gioco. Anche il sistema di antivibrazione con due bumper in silicone nel bel mezzo dei due tubolari in carbonio funziona molto bene e garantisce che il braccio non sia mai sovraccaricato e scaricato di vibrazione da colpi magari anche potenti e in sessione. Ora andiamo in campo e vediamo come si comporta questa X-Drive. Parto con il dire che è la pala di dropshot che in assoluto mi è piaciuta di più, per distacco. Le Canyon PRO sono entrambe molto esigenti, pur essendo top di gamma, ma questa è una perfetta pala che va bene per tutte le stagioni. La gomma EVA PRO regala un perfetto bilanciamento tra potenza e controllo. Sebbene sia considerata più offensiva che difensiva, io l'ho utilizzata sia a destra che a sinistra e mi ha dato più soddisfazioni, devo dirlo, a destra, forse anche perché è la posizione di campo che in questo momento più mi si addice. Lob e Cichite venivano con grande qualità, in difesa si muove bene ed ha anche quel quid in più di aiuto con una buona uscita di palla per le situazioni magari un po' più complicate. In attacco la maneggevolezza a rete è più che buona, si riesce a spostare bene, con comodità e alla bisogna regala anche potenza gratuita. Come sempre è più da spinta sulle palle giuste che petardo per forza in ogni situazione, ma se spingete bene sicuramente non rimarrete delusi. Per me questa racchetta è polivalente, può essere usata indifferentemente in ogni lato e zona del campo senza penalizzare particolarmente, ma dando la percezione di essere discretamente buona in tutto e non anonima in tutto come altre pale hanno fatto pensare. Forse gli effetti lasciano un filino a desiderare rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare, ma neanche poi tanto. Ho trovato un po' scomodo anche il laccetto che tende troppo ad arrecciarsi durante il gioco, facendo mancare il comfort che invece il polsino dà. Sebbene la casa madre disegni maggiormente come pala d'attacco, anche se con un 60-40, mi ha colpito molto la sua polivalenza. È una palla che non ti lascia mai a piedi. Ha potenza sulle palle giuste, non un petardo di certo come dicevo, ma aiuta molto anche in controllo e lavorazione del punto. È una peculiarità classica di dropshot in tutte le sue racchette. La solidità. Si ha una percezione di avere in mano qualcosa che duri, poi questa vi arriva a casa con un fodero termico e davvero ben imbottito per salvaguardare la vostra pala da ogni tipo di problema. Ah, già che ci siamo, e in tema di solidità, visto che ora viene il caldone, ma col freddone è uguale, ricordatevi di non tenere la palla nel bagagliaio della macchina sotto il sole, perché si rovina. Se uscite la mattina e giocate la sera, portatevela con voi in ufficio o dove andate, perché rischiate di rovinarla o farla degradare molto molto prima. La qualità stilistica è top. Il Total Black è molto bello e anche il logo iridescente con diversi colori in base al riflesso della luce è molto distintivo. È una pala sicuramente molto particolare e bella da vedere. Il laccetto, come dicevo in particolare, non mi ha entusiasmato, come dicevo sebbene la polsiera sia tutto sommato comoda, un po' pesantina ma comoda. Il laccetto si arriccia spesso generando un po' di fastidio nel gioco. Anche il manico non mi ha convinto particolarmente per quanto riguarda il grip. Vero è che vengo dalle Tactical Paddle che probabilmente sono il top da questo punto di vista. La Dropshot X-Drive è una pala polivalente, adatta sicuramente al giocatore di destra ma anche a quello di sinistra, perché unisce un ottimo controllo a una buona dose di potenza. Non da bombardiere alla Galanno Tapia per esempio, ma comunque rispettabile. Un altro punto a favore di questa racchetta è che il prezzo non vi obbligherà a dare fondo al vostro portafogli. Vero, siamo sempre ben oltre i 200€, ma street price si può trovare a buon prezzo e se volete risparmiare ancora trovate il link in descrizione che mettendo il codice sconto che trovate sempre in descrizione riceverete un ulteriore 10% sul prezzo del catalogo. Posso dire che sono uscito dal test della X-Drive con ottime sensazioni e, se finora avevo trovato le Dropshot provate non adatte al mio gioco e non mi avevano scaldato particolarmente pur riconoscendo negli indubitabili pregi, questa mi ha lasciato ottime sensazioni e grande feeling. Se ne avete la possibilità io vi consiglio di provarla e, se lo avete già fatto, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta e siete rimasti piacevolmente sorpresi magari come me. Vi ricordo che se questa recensione vi è piaciuta lasciate un like al video che è uno dei migliori modi per supportarmi, oltre che anche seguirmi sul mio profilo Instagram che trovate qui sotto e siamo sempre di più ogni giorno a parlare dei padel. Io vi ringrazio come sempre di avermi fatto compagnia in questo video e vi aspetto qui per la prossima recensione sempre sul mio canale YouTube e se avete domande mandatemela con un ciancletasso.